Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, questa è una delle mie nuove puntate di Time Lapse Oggi siamo su a Milano, siamo in zona San Siro, da un mio cliente e amico Mi farà fare la parete del suo garage, 6 metri per 3, centimetro più centimetro meno Faremo un bel toro, perché il soggetto sarà appunto ispirato alla macchina che starà qui dentro Che sarà una bellissima Lamborghini, colore lichio Questo è l'inizio, adesso ho incartato tutto Da poco, iniziamo con il Time Lapse del Graffino Ciao ragazzi E poi nei video non dico mai quello che vorrei dirvi fino in fondo Perché poi mi dimentico delle cose e mi faccio prendere dalla diretta Però quello che vi volevo dire è che ho delle splendide magliette che ho scritto link Sulla schiena e le ho fatte a casa per poi farle vedere nel Time Lapse Che mentre sono da dietro si vede il mio bellissimo logo, no? In tutti i frame, però purtroppo ci sono due gradi Ho il garage aperto, quindi purtroppo niente felpe, niente magliette, niente promozione E' un piazzamento prodotto Sarò di spalle con il bottone, non sarà così pubblicitario come appunto dicevo Non ho le mie luci, non ho le mie cose classiche che ho Però ecco Perdonatemi ma se no non si riesce Ciao ragazzi Allora Ciao ragazzi, questo è il terzo giorno del disegno del toro Racing Bull, lo chiameremo Siamo piuttosto avanti Oggi dobbiamo finire la parte in basso Della energia E poi dobbiamo finire dei ritocchi Alla parte del torrello Adesso se mi metto davanti al proiettore Vedete che sotto Vedete? Non è finito proprio Adesso non so se farò partire il Time Lapse Perché dovrò stare un po' a buio Per fare quelle parti che sono nel nero Che si vedono poco Semplicemente con il videoproiettore Però ecco Non farò probabilmente il Time Lapse Questa cosa Ma faremo quella dopo Quando farò le altre outline E metteremo anche qualche outline Lina rosa Come da progetto Ci vediamo dopo Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.